Possono passare a condurre se lo sfrutteranno a dovere. Eccolo il replay del gol, ha preso la mira e l'ha messa alle spalle del potere, scavalcando la barriera con questa conclusione di interno piede, punizione calciata perfettamente. Possesso perso. A campo sulla fascia. Messi. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo da stare, Pier. Marziano. Ottimo qui Tiki Taka. Lo ferma sul più bello. Walker. Martial. Provano con la forza della risperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Comoda uscita del portiere. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Pallone che torna agli avversari. Bacambu. Intervento efficace. È finita. Un ottimo risultato per la squadra ospite che torna a casa con i tre punti. Una vittoria voluta. Cercata e ottenuta quando forse... Pallone in rete. Si aprono dunque.